Mercato da urlo per il neopromosso Foligno che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista anche in eccellenza. Serie C le date della stagione del Gubbio si parte il 26 agosto chiusura il 5 maggio. Iniziata Gubbio nella cornice di Piazza Grande il primo memorial di calcio a 5 dedicato alla memoria di Enrico Nicchi e Giuseppe Angeloni domani e domenica alle finali basket siccome a Val di Ceppo vuole il ripescaggio in B. Buonasera ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG il calcio in primo piano con il Gubbio che pensa al mercato dopo aver definito l'iscrizione al campionato di Serie C in attesa di buone nuove in attica di ampliamento dello stadio Barbetti. Nel weekend si attende la risposta definitiva di Simone Palermo che ancora non ha firmato il contratto ma che ha raggiunto di fatto verbalmente l'accordo. Importa con Volpe vicino alla Cremonese oltre a Cucchietti del Torino interessa De Gregorio l'ultimo anno a Renate ma di proprietà dell'Inter mentre per la difesa si seguono Crocchianti dello Spezia e Mulas del Carpi. La Lega inoltre ha definito le date del prossimo campionato di Serie C si comincia domenica 26 agosto con ultimo turno 5 maggio 2019. Confermato il turnover tra gironi per giocare sabato e domenica a cadenze trimestrali e confermate anche le fasce orarie che restano divise in quattro tronconi con il cosiddetto spezzatino. Si giocherà le 14 e 30, 16 e 30, 18 e 30, 20 e 30. Scendiamo in eccellenza per fare il punto in casa Foligno che da neopromossa sta allestendo un'autentica corazzata per provare a vincere subito il campionato di eccellenza. Vediamo. Voglia di stupire. A due mesi e mezzo dalla festa che ha contraddistinto il salto in eccellenza, il Foligno vuole proseguire il suo percorso di crescita e puntare alle zone alte della classifica anche nel massimo campionato regionale. Per questo la società sta fornendo al confermato tecnico Armillei una rosa di assoluta caratura per la categoria. In difesa è arrivato il Totem Zanchi, colonna del Bastia promossa in D e Ciccioli dalla nuova Gualdo Bastardo. Centrocampo sistemato con il regista Gorini, elemento di categoria superiore, reduce dannate fulgide in D con città di Castello, Sansepolcro e Montevarchi. Oltre all'etlettico 20 anni, 10 reti nella stagione appena trascorsa con la maglia dell'Angelana e il giovane Pettinelli che ha collezionato 31 presenze in D con il Villabiagio. Sempre dal Villabiagio il colpo in attacco è stato Legubino Francioni che due anni fa ha griffato ben 18 gol con il Fontanelle Pranchi in eccellenza. Confermati il portiere Roani, la bandiera Petterini, Bomberginai, il difensore Baldoni assieme al giovanissimo Pariruolo Pagliarini, il fantasista Cascianelli e il centrocampista Salvucci. Tutti elementi che garantiscono una solida base di folignalità oltre ad ottime capacità tecniche. Complessa ma non impossibile la trattativa per l'esperto attaccante Peluso, mentre non ci sarà in mediana De Santis, per cui la trattativa era pressoché conclusa fino al dietrofronte del giocatore che ha preferito rimanere a massa martana. Ma se è vero che sono partite pedine focali dello scacchiere vincente Fudutte Biviglia, Agostini, Cavito e Le Praccalenti, eppure è vero che il mercatino entrata può ancora regalare sorprese per un foligno da pole position anche in eccellenza. È un percorso che ambisce comunque a sfruttare tutte le proprie energie, a mettere in cambio tutte le proprie energie per essere protagonisti, senza promettere nulla, se non quello che è il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi che sono a disposizione. Quindi al di fuori degli schemi di quello che ho letto questi giorni, dove come lo scorso anno noi siamo i più belli, i più alti, i più abbiuti, gli occhi più azzurri di tutti, no non è vero, noi siamo gente che lavora in modo serio e cosciente e cerca di mettere il massimo impegno e mettere le massime energie nell'ottenimento di risultato. Poi speriamo che ci dì ragione in campo, insomma, non è lungi da noi pensare altrimenti. E torniamo a Gubbio dove è iniziato nella splendida cornice di Piazza Grande la fase finale del primo Memorial Enrico Nicchia e Giuseppe Angeloni di Calcio a 5 con un inedito terreno di erba sintetica che copre parte della Piazza Pensile da ieri sera semifinali e finali dei tornei di categorie giovanili, il clou domani, sabato e domenica con anche la partita di vecchie glorie. Vediamo. E' subito spettacolo, con folta presenza di pubblico per il primo Memorial Enrico Nicchi e Giuseppe Angeloni, torno estivo di Calcio a 5, organizzato dall'Atletico Gubbio in ricordo di due dei fondatori di una delle maggiori realtà calcistiche giovanili del territorio. Dopo le fasi di qualificazioni che si sono tenute presso gli impianti sportivi Luciano Cambiotti di Zappacenere, da ieri splendono le luci nell'incantevole scenario di Piazza Grande dove è stato allestito un campo da gioco sintetico in cui si svolgono le fasi finali delle categorie Pulcini, esordienti giovanissimi e senior. Stasera in programma dei semifinali, domani si terranno gli atti conclusivi delle categorie giovanili, mentre domenica, primo luglio, è fissata la finale senior preceduta da un suggestivo a Marcord con un triangolare tra le vecchie glorie della Gubbio Calcio che hanno fatto la storia degli anni 70, 80 e 90. Siamo riusciti anche a fare questa iniziativa grazie anche all'aiuto del Comune su Piazza Grande con un campo sintetico, credo sia uno spettacolo sia per chi guarda sia per chi gioca poter usufruire di questa piazza. È uno sforzo notevole organizzare un torneo così, però la soddisfazione è veramente grande perché il ricordo di queste due persone alle quali siamo veramente molto affezionati e grati per tutto quello che hanno fatto per noi. Personalmente sono orgoglioso di quello che è stato fatto dall'Atletico Gubbio perché ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che hanno collaborato, che hanno speso il loro tempo per poter organizzare questa cosa bellissima. È un orgoglio poter ricordare il Babbo e Enrico con un torneo di questo tipo perché penso che a loro sarebbe piaciuto tantissimo vedere dei ragazzi, dei bambini che giocano qui su Piazza Grande con tutte queste presenze, è una cosa molto bella e quindi siamo veramente orgogliosi di quello che è stato fatto e ringrazio ancora tutti quelli che hanno partecipato. E siamo al basket, dopo la mare retrocessione in cima, materializzatasi nei play-off con Nardò, prova a rialzare la testa a Sicoma Val di Ceppo. La società perugina ha deciso di presentare alla Lega la richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie B. Nei prossimi giorni atteso il verdetto, intanto la società della presidentessa Gionangeli ha confermato per la prossima annata Andrea Giottoli come preparatore atletico e Edoardo Casuscelli come responsabile del settore giovanile Lorenzo Negrotti nel settore mini basket. Non rimarrà invece il coach Marco Schiavi, subentrato lo scorso anno a Paolo Pierotti, il tecnico guiderà infatti il prossimo anno in Serie B il Malloni Porto Sant'Elpidio. Rinforzo di caratura sotto le plance per la pallacanestro femminile Umberti in vista del prossimo torneo di A2, ufficiale l'acquisto di Adriana Kvitovic, pivot croata classe 94 che proviene da Budapest Serie A ungherese dove ha concluso la stagione con 8 punti di media per 19 minuti di utilizzo medio. Nel suo passato anche l'esperienza nel college americano di Dayton in Ohio dove ha militato dal 2013 al 2017 disputando il torneo NCAA. Inoltre la giocatrice croata ha fatto parte delle nazionali under 16 e under 18 del suo paese. Infine domenica 1 luglio appuntamento con la prima edizione della Corsa delle Croci, gara polistica di 8 chilometri di corsa in montagna, valevole per il campionato regionale Fidal organizzata dal circolo Aspi di Casa Morcia-Raggio di Gubbio presieduto da Lorenzo Monacelli in collaborazione con la Gubbio Runners. Partenza alle 9.30 dalla frazione di Petazzano con arrivo spettacolare sulla croce del monte di Casa Morcia dopo aver girato intorno alla croce di Monteleto-Mocaiana. C'è grande curiosità intorno all'evento perché la gara rappresenta una novità nel panorama eugubino non essendo stata mai organizzata una corsa polistica simile che richiede anche grande assistenza sia tecnica che medica. È l'ultima notizia di questa edizione del TG Sport che andrà in replica nella tarda serata intorno alla mezzanotte 30 e ritroverete domani sul nostro sito trgmedia.it. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per la visione!